Igor Shuran Ci siamo, buon pomeriggio, grazie Andrea della presentazione, buon pomeriggio a tutti. Io non avrò altri slide oltre a questo, quindi potete ascoltarmi e guardare i nomi delle aziende. Finocchio, brutto frocio, quel trans e parliamo di una donna. Colpisce sentire queste parole, colpisce sentire da chiunque, figuriamoci da un signore di mezza età come me, vestito così, che potrebbe essere un piccolo direttore in una grande azienda in qualsiasi città di questo paese. Sono parole offensive, volgari, parole che feriscono, che vengono dette per far sentire non protetti e attaccati, che qualificano, che vengono dette per far sentire inferiori e per iniziare una guerra. Per assurdo anche la parola lesbica, tanto difficile da pronunciare. La parola lesbica viene spesso usata con le stesse intenzioni di offendere. Anche se guardando nei più autorevoli dizionari della nostra lingua, vediamo che la parola lesbica viene semplicemente definita come donna omosessuale, senza alcun richiamo alla volgarità. Per questo sarebbe un argomento, per un altro autorevole convegno come questo. Sì, sono parole offensive, dette per spiazzare, per annientare, per far sentire male, però sono anche dell'ovvietà e tutti noi sappiamo quanto siano nocive, quanto facciano male queste parole. E non ci vuole un convegno autorevole come questo, non ci vuole l'insieme delle menti brillanti e illuminate come le vostre per capirne e definirne la pericolosità. Una sera a cena parlavo con il mio compagno, che dovrebbe essere qua da qualche parte, e gli parlavo delle idee che avevo per l'intervento durante questo convegno. E lui mi ha detto, Igor, è certo, sarebbe stato molto meglio se il discorso l'avessi già scritto. Già scritto. Già. In quel momento la parola già, piccola, piccola parola che usiamo mille volte al giorno, nella mia mente assumeva il peso di una di quelle parole difficili a cui noi riusciamo a dare il significato giusto. Era come una freccia che entrava in mezzo alla mia certezza, alla mia quiete. Era quanto più ostile in una bella serata una parola potesse diventare. Era una parola ostile. E immaginiamoci se una parola come già, piccola, che usiamo mille volte, questa volta era detta sono certo con tanto amore, quante altre parole che sentiamo dire, che diciamo ogni giorno, possono essere altrettanto e ancora più ostili. Parole che usiamo senza pensarci due volte. Ed è di queste parole che sono in imparenza calme, inoffensive, quotidiane e accettabili in ogni situazione che vorrò dedicare a quel che resta del mio intervento. Certo, la parola froce e quell'altra che ho detto non sono utilizzabili, non sono giustificabili in alcuna situazione. Queste parole di cui io parlerò invece lo sono. Anche perché per di più vengono utilizzate in maniera pacifica, amichevole, inequivocabile, nei contesti in cui tra gli interlocutori c'è un'armonia e un intendimento sul significato della parola. E in tali casi sono una parola amichevole perché ci permettono di trasmettere idee e concetti a coloro con cui sappiamo di essere in sintonia. Invece possono essere ostili nelle situazioni in cui questa armonia, questo intendimento sul loro significato non c'è, non c'è tra le persone che si parlano. Questa sessione è dedicata alle aziende e alla advertising. Noi avremo avuto, avremo rappresentanti delle grandi aziende che appelleranno di quello che effettivamente hanno fatto. Io credo che per non essere ostili nel confronto con i propri clienti, vuol dire per essere un'azienda di successo, uno dei metodi più efficaci dell'apprendimento su come non essere ostili è quello di non essere ostili internamente con i propri collaboratori. E noi di Parks rappresentiamo questo principio del rispetto e dell'inclusione dei propri collaboratori all'interno dell'azienda, quindi quello dell'inclusione. E l'inclusione qua è la parola chiave, contraposta alla esclusione. E qua mi permetto, parole ostili, bellissimo nome, io qua mi permetto di definire parole ostili come parole che escludono. Parole che escludono perché chi le usa è consapevole del potere manipolativo che queste parole in parvenza accettabili possono avere quando chi le sente non le intende allo stesso modo come chi le ha detto. Parole manipolativo, quindi ci sono delle cattive intenzioni. Oppure possono essere ostili quando chi le usa ignora che la persona che sta ascoltando può intenderle diversamente. Io voglio pensare, io spero e credo che tutti noi vogliamo sperare che sono molte più le persone che ignorano di quelle che lo fanno con cattiveria. Io credo che in questa cosa c'è la nostra grande speranza è la nostra grande opportunità e per quello che siamo qua riuniti per parlarne. Allora, quali sono le parole che le persone gay, lesbiche, bisessuali, transgender potrebbero intendere come vivere come ostili in un ambiente di lavoro? Sono quelle parole che per il nostro vissuto, la nostra tradizione, l'esperienza, le usanze hanno sempre, da quando le abbiamo imparate, significato una singola cosa. Perché hanno sempre detto, descritto ed espresso i concetti in un unico modo, chiaro, a tutti noi ed a tutti noi condiviso. Alcune di queste parole di cui parlerò sono tra le parole più belle nella nostra lingua e in tutte le lingue del mondo. Sono le parole a cui sono state dedicate poesie, poemi, nei secoli, nei millenni. Sono parole che sono la nostra vita. E la prima parola con cui inizio è la parola famiglia. Famiglia come nucleo sociale, come principio che sottointende amore, dedicazione, responsabilità, progettualità, protezione. Una delle più belle parole che improvvisamente diventa ostile quando chi le dice o chi la dice comprende tutte le famiglie di questo mondo tranne la nostra. Noi non ne facciamo parte. Quando in un luogo di lavoro la nostra famiglia non viene considerata con la stessa serietà come tutte le famiglie che amiamo definire tradizionali. E per questo da una parte a noi non vengono concesse le facilitazioni aziendali che normalmente vengono date a tutte le altre famiglie, ma dall'altra parte ci è preclusa una partecipazione appieno nella vita sociale dell'azienda. Noi adesso in questo paese abbiamo una legge, una legge importante, una legge che anche in uno dei suoi articoli definisce come vita familiare la vita delle due persone dello stesso sesso unite civilmente. Però questa legge in una maniera molto importante riesce a porre rimedio a questa ineguaglianza normativa, ma la ineguaglianza delle vite sociali rimane e c'è un grande lavoro davanti a noi per risolvere anche quella. E una delle cose che dobbiamo fare e possiamo fare è anche parlare delle parole ostili. L'altra parola è la parola figli, per chi è sempre stato madre o padre del figlio del proprio compagno o compagna, anche se non formalmente riconosciuto. Non c'è dolore più grande dal non sentirsi dare il privilegio in azienda di essere quello che sei, madre o padre. La parola vita. Quando ci sembra di vivere la vita degli altri, ricordiamo tutti quel bellissimo film, molti l'abbiamo visto, la vita degli altri e non la nostra vita. Perché la nostra non viene riconosciuta come vita, la nostra nel caso migliore viene riconosciuta come uno stile di vita, nel caso peggiore come una moda, come una tendenza, tutto, tutto, ma non la vita stessa. Parlo della parola amore. Andrea ha detto, io sono istriano, quindi che mi sia permesso uno stereotipo che io, natio di altrove, mi permetta di parlare, nella lingua italiana, dell'amore. Nella lingua in cui sono state scritte tante poesie, tante canzoni sull'amore. Quando quello che sentiamo noi altri non viene descritto come amore, bensì come passione, infatuazione, desiderio, tutto, ma non amore. Le parole marito e moglie. Quanto è difficile accettare un invito, quando si è un uomo, per un evento con la signora. Se a casa tua ad aspettarti non c'è una donna ma un uomo, e tu ti senti escluso ancora prima di decidere se andare a questa festa aziendale con la tua automobile usando i mezzi pubblici. Altre parole potenzialmente ostili sono quelle legate al nostro senso di realizzazione e ispirazione professionale. La parola leadership. Cercherò di dire in lingua italiana, quindi la capacità di programmare gli obiettivi e di incentivare e motivare gli altri affinché seguono il percorso che ci porterà a dare un giungimento. È la parola leadership. Quando in un'azienda si pensa che una persona omosessuale o transgender not leadership material non può diventare, certo che non può diventare leader. Chi la seguirebbe questa persona come leader? Nessuno. Ma non è così perché noi non ne siamo capaci. Casomai sarà così perché il nostro intorno non ci permette di esprimere le nostre capacità. Ci costringe a nasconderci nel caso peggiore. Nel caso migliore ci costringe a giustificarci in continuazione. Giustificarci per quello che siamo. La parola responsabilità. Come può essere responsabile uno o una che non ha messo su famiglia, che non ha una continuità nelle relazioni che è una peccora nera nel greggio bianco del mio organico aziendale di cui io faccio direttore personale. Come si può contare su uno o una che ha sempre raccontato bugie, menzogne, senza chiederci il perché di queste menzogne. Poi ci sono parole che ci danno a tutti un senso di appartenenza. e la prima parola che mi viene in mente è la normalità. Che cosa è normale? Quello che fanno tutti gli altri. È normale concettualmente o è normale numericamente? A volte a matematico non realizzato che credo di essere da persone clemente, credo che tutte quelle persone che usano la parola normale per descrivere noi altri, gay, lesbiche, transgender, debbano essere delle grandi menti matematiche perché per esprimere i concetti semplici usano i termini difficili della distribuzione gaussiana, normale. Di cosa stiamo parlando? E adesso sto arrivando alla chiusura, Andrea, così. Noi oggi parliamo delle parole ostili o parole che sono potenzialmente ostili. Il cane fedele, il cane bastardo. È la stessa parola che può essere amichevole e ostile. E io credo che non vi è un'altra parola più ostile per le persone omosessuali, transgender, una parola che non è tra le più belle parole di questo mondo come la famiglia, la vita, i figli. Non è nemmeno tra le parole indicibili come quelle all'inizio, anzi, è molto indicibile. Si dice fin troppo spesso. E questa parola è la parola ostentare. Ostentare. Quando un collega eterosessuale arriva in ufficio con un ritardo di cinque minuti, già nell'ascensore pensa alla scusa da presentare. Certo, mia moglie stamattina partiva per un viaggio di affari e io ho dovuto accompagnare il nostro figlio che guarda caso aveva perso lo zainetto ed è pure arrivata la sfocera con il treno di notte e starà con noi. E i colleghi in ufficio sorridono e dicono povero uomo va prenditi un caffè va tutto bene. Quando invece arriva il collega gay tre minuti di ritardo e pensa alla stessa scusa e dice scusate il mio compagno partiva per un viaggio di affari e io ho dovuto accompagnare il nostro figlio a scuola e guarda caso si è perso lo zainetto e è arrivata pure la sfocera. La gente si ferma il sorriso non c'è più e dicono va bene, va bene sono tre minuti di ritardo va tutto bene ma non ci raccontare le tue cose non ostentare mentre gli altri parlano della loro vita noi ostentiamo ostentiamo che cosa? La nostra vita ma ditemi voi come si può ostentare una vita? Io vi ringrazio.